Sul monte Pallano c'è una grotta, tra i ruderi delle ciclopiche mura che secondo la tradizione vennero costruite dai paladini. Ha una porta di ferro, custodita da Satana. Dietro la porta stanno tre mucchi, uno d'oro, uno d'argento e il terzo di rame. Chi consegnerà un'anima al demone guardiano potrà entrare e servirsi da uno dei mucchi. Se avrà consegnato l'anima di un uomo potrà prelevare il compenso dal mucchio d'oro, se di donna dal mucchio d'argento, se di ragazzo dal mucchio di rame. Un contadino era riuscito a raggirare il demonio propinandogli un porcellino. Si era servito dal mucchio d'oro ed era fuggito a gran velocità verso casa, senza voltarsi indietro. Sua moglie, quando lo vide arrivare di corsa con un sacco in spalla, si mise ad insultarlo e poiché lo sposo le passava davanti e la superava, diretto verso la casa senza risponderle, lei gli tirò un sasso in testa. Il contadino si voltò e subito l'oro del sacco si trasformò in carbone. Il tesoro del monte pallano è così famoso che quando si parla di denaro ad atessa si dice comunemente, vallo a scavare a pallano.